ciao a tutti ragazzi voglio farvi ritornare nel mio vlog e sono sono felice di raccontarvi un'altra settimana che ho passato qua x factor e allora musicalmente sono molto felice stiamo facendo un ottimo lavoro questa settimana ho un pezzo potentissimo con una produzione potentissima non fit con un artista che ammiro molto e che ha preso cuore sia al brano che alla fine anche tutto tutto il progetto quindi me stessa e sono contentissima di questa collaborazione perché sono partita da fan e sto parlando di idea supreme sono partita da fan e sono arrivata poi a collaborare e questo mi fa capire che comunque se vuoi raggiungere un obiettivo lo puoi fare tranquillamente basta crederci impegnarsi e tutto quanto fa anche strano parlarne perché ripeto sono partita dalla mia cameretta con una cavolo di cover che ho presentato poi anche qua x factor alle audizioni e adesso ci sto lavorando assieme quindi boh è un sogno comunque che si sta realizzando poi volevo invece parlare di voi in questo blog volevo dare l'attenzione più a voi perché volevo ringraziarvi con tutto il cuore mi state sostenendo in una maniera incredibile mi state veramente veramente scrivendo dei messaggi pieni di significato in primis e pieni di complimenti io sono felicissima per questa cosa perché anche questo fa strano comunque state apprezzando il mio lavoro tutto quello che sto facendo il percorso mi state apprezzando per quella che sono io faccio tutto in maniera spontanea e cavolo ricevere comunque così tanti messaggi positivi avere tutto questo supporto questo affetto da parte vostra è pazzesco ragazzi cioè io non so veramente come ringraziarvi spero di essere sempre presente comunque durante anche le vostre giornate non solo con questi blog anche comunque sui social su instagram cerco sempre di rispondere a tutti perché boh siete state diventando una seconda famiglia è veramente bello vedere questa cosa mi rende davvero felice anche questo mi fa stranissimo siete tantissimi in così poco tempo mi state apprezzando tantissimo e aiuto e faccio fatica anche a parlare di questo perché non ho mai ricevuto alla fine così tanto affetto e complimenti da parte di persone che effettivamente poi non conoscono però è talmente forte la chimica che mi rende davvero felice e quindi grazie a tutti vi abbraccio virtualmente perché purtroppo non si può fare fisicamente speriamo a breve più avanti e sono contentissima anche di questa settimana abbiamo fatto ancora tantissime prove tantissime tantissime attività e non vedo l'ora di farmi vedere al terzo live e di esibirmi in modo che appunto vedete l'altra parte di lavoro e tutto quello che stiamo combinando quindi vi mando un grosso bacione e ci vediamo per il prossimo live ciao